Siamo qui, in questo canaletto, pescando pesce bianco, potremmo essere i nomi, i laurelli, i fiotti e gli altri gobioni e roba varia. Sembra che ce ne siano, le mangiate non si fanno attenere, la giornata non è delle più calde, però i pesci ci sono. Ecco, vedete il zaneggianco, il barco di contiglio, le mangiative, un po' particolari, ma ecco il pesce, questo è un gobione, vedete che bello, che bella linea, sembra quasi un barbo, solo che, si può prendere a questa taglia, rilanciamo, come galleggante abbiamo, il galleggante abbastanza fusolato da un grammo e mezzo, torpida un grammo, e mezzo grammo di piombo, che va a tarare il galleggante, a modello 19, gambo corte, il cagnosco, in questo caso, è cazzato completamente, eppure, le mangiate, a volte, non vanno in porto. Comunque, non passa qualche secondo, se non si deve dal galleggante a spandare, o comunque sobalzare. una piccolissima, guardate che preda, una piccolissima, adesso vado a vedere, mi sembra un'alborella, infatti è presa per la gola, e per la gola la prenderemo noi. vi ritroviamo, la passatina. Sembra strano, ma questi piccoli posti, si fanno divertire magari, quindi, questo per ieri dell'alba, del sede, di certi fiumi, di un portaccio, no, il posto naturalmente lo teniamo segreto per noi, perché, se la prossima volta veniamo, c'è un altro pescatore, noi, dice che non possiamo stare, quindi, vi lasciamo intuire, guardate qua che bella ferrata, Emiliano, stai filmando Emiliano? Sì. È combattivo, è combattivo, vediamo di cosa si tratta, e si tratta di un, di un bel gobbione, guardate qui che bello, che striatura, che argentezza, guardate che bello, un bel gobbione, che a prenderlo in mano, si sente che è bello freddo, ma nonostante ciò, sono belli attivi, ricordiamoci che è la prima pescata, di quest'anno, dopo la fiume della cassa, siamo nel mese di febbraio, 12 febbraio, quindi, eccolo, combattivo, nel suo piccolo, combattivo, e si tratta sempre, di un bel, gobione, scusate, mi viene mai il nome gobione, non so perché, buttiamolo insieme agli altri, vedete che dopo, mezz'oretta di pesca, già il bottino è persistente, come numero, la me, la me, eccoci, con un bel gobione, vedete, un bel gobione, ciao a tutti, da Enrico, arrivederci alla prossima, pescata, pescata,